L'avventurosa vita di uno youtuber, youtuber che segue il calcio che segue il Milan. Avevo preparato il video, l'avevo già mandato a Corax perché lo scaricasse e lo mettesse sul mio canale youtube, però stavo venendo qui in macchina, video già preparato da casa, quando la notizia ufficiale con comunicato del Milan, l'acquisizione di Alessandro Florenzi fino al 30 giugno 2025. Allora questa è la partenza del video anche se la location è diversa perché il Milan mantiene le promesse. Il Milan aveva detto acquisiremo Florenzi, era stato acquisito a 2 milioni, lasciate stare che dice 2-7, 2 milioni perché il Milan mi ha detto 2 milioni, ma si doveva attendere per muovere tutto, si dovevano attendere le firme. Le firme come detto, poi seguirete il video, sono arrivate e subito la prima mossa perché il Milan mantiene le promesse e come avevo iniziato il video che adesso vedrete a seguire, è iniziato lo spettacolo. Molto bello ieri un commento di un tifoso del Milan, molto bello. Siamo in ritardo ma adesso parte lo spettacolo. Molto bello questo commento, un commento positivo, un commento di un tifoso fiducioso perché bisogna essere fiduciosi visto il lavoro del Milan. Bisogna sempre essere attenti perché magari si dice di una parte e di un'altra del Milan negli scorsi mesi e nelle scorse stagioni per quello che riguarda la campagna rafforzamento. Intanto ecco il comunicato, l'ufficialità del rinnovo del contratto firmato da Paolo Maldini e da Ricchi Massara, era una cosa ormai scontata, però finché non c'è l'ufficialità, figlia anche di una riunione del Consiglio di amministrazione. Non è che qualcuno decide di far firmare, c'è un Consiglio di amministrazione, una decisione, ovviamente a livello burocratico, però oggi, adesso, in questo momento, oggi, adesso, in questo momento, i due pleni potenziali del mercato, Paolo Maldini e Ricchi Massara, sono pienamente in carica. Adesso vivranno questo weekend e poi si butteranno nell'avventura innanzitutto sportiva perché lunedì non dimentichiamo c'è il raduno della squadra, ho già gli orari, la conferenza stampa di Stefano Pioli alle ore 15, mentre la mattina alle ore 11 il primo allenamento. Primo allenamento, mi dispiace, così per curiosità, avevo questa curiosità, non ci sarà Origi che arriverà martedì, ma ci sarà, per esempio, Pobega, che è un vecchio cuore, e soprattutto ci sarà Adli, quindi la presenza di Adli è una presenza importante, è una presenza significativa perché è il vero giocatore nuovo. Via con lo spettacolo. La prima domanda è, la settimana prossima può essere già la settimana del primo acquisto importante dopo Origi, dopo Adli, ma ormai ci siamo abituati all'idea di Adli? Per capire, io penso che già la settimana prossima qualcosa si debba fare, qualcuno debba arrivare. Vediamo, sono curioso di capire chi sarà per primo, tra De Keteler, tra Asensio, tra Ziyech, con il Chelsea non è così semplice, con Perdi Bala, e quindi sono questi quattro, oppure il giocatore giovane in difesa, non credo di allò perché giocatore anche lì servono delle trattative. Io mi auguro che il Milan acceleri queste trattative perché ormai bisogna incominciare a tirare i fili dopo tanto lavorare, bisogna incominciare a, diciamo così, incominciare a investire, a investire per poter rendere forte questo Milan. Ha detto, siamo pari di un po' in ritardo, l'ha detto anche Paolo Maldini, però adesso dopo la partenza in ritardo deve esserci lo sprint, senza guardare gli avversari, senza guardare cosa fanno gli altri, pensando unicamente al Milan. Il Milan deve partire. Origi era già ancora del passato, bella operazione, però perso Botman, in questo momento credo un po' lontano Renato Sanchez, bisogna vedere. De Keteler piace, mi hanno detto l'altro giorno che anche Raspadori domani vado a verificare. Raspadori potrebbe essere un soggetto, però quando incominciano a esserci 20 milioni Paolo Maldini e Ricchi Massara dovranno inventarsi un po' di formule magiche come anche le altre squadre. Le formule magiche vogliono dire pagamento fra un anno e d'altra parte se le altre squadre sono così brave di poter pagare quando ritengono dopo una trattativa, dopo un accordo, ritengono sia più agevole per i conti della cassa di queste squadre e dovrà farlo anche il Milan. Cosa che ha fatto, perché non è che siano impreparati, Tomori è stato proprio così. Tomori è prestito con diritto di riscatto e il Milan potrebbe fare la stessa cosa per esempio con De Keteler. Perché non tentare anche De Keteler col diritto di riscatto? Potrebbe anche tentare col diritto di riscatto indipendentemente da Dybala, perché una rosa di 28-29 giocatori deve essere una rosa ricca in quantità ma anche in qualità. Non dico di arrivare ovviamente ai regali meravigliosi del presidente Berlusconi che in un anno ci ha regalato Boban, Savicevic, Raduccioio, Laudrup, Papen. Ora questo magari non riusciamo ad arrivare a questi livelli altissimi di acquisti. Però insomma non fermarci ai 2-3 acquisti ma anche andare un po' sopra, un po' oltre con il discorso riguardante i prestiti con diritto obbligo potrebbe essere una soluzione intelligente per rendere più forte il Milan. Sono state settimane turbolente ma io scommetto, ritornando al raduno di lunedì prossimo alle ore 11 a Milanello il primo allenamento, ci sarà grandissimo entusiasmo intorno al Milan, l'entusiasmo che ha accompagnato la squadra, i giocatori, tutto il Milan, che ha accompagnato tutto il Milan nel finale di stagione, nel finale di campionato scorso che ha portato lo Scudetto. Vedremo ovviamente chi sarà di fianco a Pioli, se ci saranno i nuovi giocatori oppure capire quali saranno i dirigenti. Vedremo anche questa, è una curiosità dopo le turbolenze degli ultimi giorni, delle ultime settimane, sulle quali io però non vorrei più tornare. Oggi una domanda era cosa riusciranno a trovare l'intesa, l'intesa per il bene del Milan verrà trovata e il Milan partirà per acquisire dei giocatori magari inaspettati, soprattutto nel ruolo di difensore centrale, non riesco a capire, a immaginare quale giocatore possa essere scelto come quinto. Signori, la Sampdoria, l'ha detto anche il direttore sportivo Faggiano, vuole Gabbia. È il giocatore più stimato anche da Giampaolo, anche da Faggiano che lo segue da tanto tempo, vogliono Gabbia. Sono disposti anche ad attendere magari il tempo necessario, ma puntano su Gabbia. Questo che cosa significa? Significa che il Milan non deve prenderne uno, deve prenderne due bravi in difesa. Quindi questo è un altro punto fondamentale. La difesa è la base delle grandi vittorie, non devo inventarmelo io certamente questo concetto, ma uscendo Gabbia il Milan deve trovarne due, perché Tomori, Calulu, Chier, col punto interrogativi riguardanti Chier, perché sarà a disposizione, ma quando sarà al massimo della condizione, quindi poi magari è subito pronto. Bene, saranno tre, ma se ne servono assolutamente cinque. Poi c'è da gestire anche le cessioni. Colombo, lo stesso Daniel Maldini, vedremo quale potrà essere la soluzione per Daniel Maldini. Innanzitutto per capire se Daniel Maldini può eventualmente interessare ancora al Milan, prima domanda, oppure vuole andare a farsi, come si dice, non mi piacciono le frasi fatte, vuole andare a crescere in altre squadre. Si fanno letto su qualche sito dei nomi di squadre di Serie A anche di livello, come lo Spezia o come il Verona. Vedremo se saranno queste le scelte delle squadre nei confronti di Maldini e di Maldini nei confronti delle squadre. Siamo curiosi di vedere il suo allontanarsi dalla casa madre per andare a cercare con coraggio un'altra avventura fuori dal Milanello, dove è stato per mesi, anzi per due anni, ovviamente a crescere con i grandi giocatori. Ha avuto lo spazio, ha segnato un gol importante proprio alla Spezia, quindi vedremo anche lui dove potrà andare, dove potrà andare a, diciamo così, attemprare carattere, attemprare l'intensità del gioco, insomma a giocare con, a confrontarsi in realtà nuove. Non che qui al Milan abbia giocato contro squadre scarse perché è stato il centroavanti della partita che il Milan ha vinto contro il Rioave, è stato attaccante in altre occasioni, è stato importante in certe soluzioni quando al Milan serviva questa tipologia di giocatore. Quindi questa è un po' la situazione che riguarda anche le cessioni, Castilleco. Castilleco, dicono tante squadre lo vorrebbero, ma quale sarà la squadra che poi investirà in Castilleco? Bisogna vedere la situazione Messias e Selemequer, in Milan intanto Messias l'ha comprato, bisogna capire dove poi andrà Messias, oppure se verrà confermato come io alla fine credo, credo che rimarrà, allora si verrà il dubbio, Selemequer, insomma ci sono anche tanti temi riguardanti le cessioni. E poi c'è il tema importante del rinnovo e un rinnovo su tutti è quello di Leao. Oggi Bola, il quotidiano sportivo portoghese, ha proprio sottolineato che lo Sporting vuole 19 milioni di euro. Questi 19 milioni dovranno essere probabilmente divisi tra lo Sporting di Lisbona, scusate, tra il Lille e il giocatore Leao. In questo caso il Milan sarebbe anche disposto, ha anche provato a trovare una soluzione in questo senso, aiutando tra virgolette in caso di rinnovo del contratto Leao a pagare questi 10 milioni di euro, una cifra importante per il giocatore rosso-nero. Quindi anche il contratto, il rinnovo di Leao sarà uno dei punti cardine delle prossime settimane. Si era anche letto che il Milan, nel caso di mancato rinnovo, potrebbe anche prendere in esame l'eventuale cessione, perché il prossimo anno o un anno sicuramente scende la quotazione, non parliamone fra due, che sarebbe addirittura a zero. Tra un anno e mezzo non dobbiamo dimenticare che nel gennaio del 2024, cioè tra un anno e mezzo il giocatore potrebbe firmare per un'altra squadra e questo sarebbe totalmente insopportabile. Se vi è piaciuto questo video mettete il vostro like, iscrivetevi al canale YouTube di Carlo Pelegatti, attivate la campanella e soprattutto il mio podcast, seconda puntata e sta quasi per uscire, la stanno costruendo, la terza sul 2012.